Musica Corrado Oddi, Forum Acqua Bene Comune a tre anni dal referendum sull'acqua, a che punto siamo rispetto alla ripubblicizzazione? La prima cosa che va detta è che un risultato il referendum l'ha acquisito lo dico perché molto spesso ci si dimentica e cioè se non avessimo abrogato la normativa che obbligava alla privatizzazione alla fine del 2011 ci saremmo trovati con la completa privatizzazione del servizio idrico del nostro paese questo è un risultato che abbiamo acquisito però il referendum ha detto molto di più il referendum soprattutto in termini politici hanno indicato la strada della ripubblicizzazione del servizio idrico e hanno detto che non si possono fare i profitti sull'acqua da questo punto di vista invece ci tocca constatare a quasi tre anni di distanza che su quest'esito i referendum sono largamente disattesi se non apertamente contraddetti il processo di ripubblicizzazione a parte Napoli che ha completato il processo di trasformazione dal soggetto gestore che era un esseppiato tale capitale pubblico in azienda speciale diceva a parte Napoli tutto il resto è fermo nel paese anzi stiamo assistendo al fatto di tornare indietro se penso per esempio alle scelte che si stanno facendo a livello nazionale siamo nuovamente alla vigilia di una grande ondata di privatizzazione le privatizzazioni vengono annunciate dal precedente del governo ma anche da questo come privatizzazione delle poste, delle ferrovie, delle grandi aziende pubbliche nazionali e ci aspettiamo che la prossima fase intervenga per rilanciare le privatizzazioni anche dei servizi pubblici locali poi ragionando sul secondo referendum proprio quello che aveva abrogato la cosiddetta remunerazione del capitale investito cioè il fatto di fare profitti sull'acqua purtroppo proprio nei giorni passati è arrivata la sentenza del Tar rispetto alle nuove tariffe che come forum dell'acqua assieme a Federconsumatorio avevamo impugnato quella sentenza è una sentenza che conferma il metodo tarifario dà torto al nostro ricorso e soprattutto la cosa grave di questo pronunciamento al di là del fatto che come tutti i pronunciamenti li rispettiamo e però appunto ci viene dato torto con una argomentazione che in buona sostanza dice che il servizio idrico va messo sul mercato si dice facendo un giro di parole abbastanza strano che non ci sarebbe il profitto ma il costo del capitale ecco anche questa sentenza ci fa dire che appunto a tre anni di distanza in realtà quello che doveva succedere e cioè il fatto che l'acqua fosse messa fuori dal mercato il servizio idrico venisse ripubblicizzato appunto quel risultato invece viene ostacolato E questo probabilmente è il motivo per il quale oggi siamo qui a Marzabotto a parlare di Costituzione oggi quanto c'entra questo tema con la Costituzione e la democrazia nel nostro paese? C'entra molto perché appunto semplicemente ragionando su quello che è successo al pronunciamento di 27 milioni di cittadini italiani vedere che quella maggioranza assoluta che ha detto quelle cose in realtà appunto non viene ascoltata beh questo significa che c'è un enorme problema di democrazia e la democrazia sta a braccetto con la Costituzione oggi la battaglia per la Costituzione e per la sua passione io penso passi soprattutto attraverso il fatto che appunto che bisogna riaffermare nuovi strumenti di democrazia bisogna dire che i beni comuni non vanno messi sul mercato bisogna dire che il lavoro deve tornare a essere un diritto tutto questo non succede da questo punto di vista la nostra è una battaglia per la democrazia è una battaglia per l'attuazione della Costituzione infine penso anche che tutte queste questioni si saldino attorno al tema delle risorse della finanza della ricchezza per esempio è noto che da non molto è stato inserito nella Costituzione il famoso pareggio di bilancio questa è una cosa che per esempio impedisce la ripubblicizzazione del servizio idrico ma contemporaneamente strangola gli enti locali ma contemporaneamente impedisce che si possano fare scelte alternative rispetto all'austerity ecco difendere la Costituzione per esempio significa anche mettere in discussione il pareggio di bilancio mettere in discussione la scelta del fiscal compact che ci proviene dall'Unione Europea e quindi in qualche modo vedere che c'è un filo che tiene insieme le battaglie sui beni comuni sul lavoro, sulla democrazia per attuare la Costituzione La battaglia dell'acqua di recente è passata anche attraverso l'Europa c'è stato un processo che ha raccolto 1.800.000 firme in tutta Europa per richiedere la ripubblicizzazione Qual è stato l'esito di quell'evento? Anche da questo punto di vista ci tocca constatare che anche la Commissione Europea non risponde alla voce dei cittadini Tu facevi giustamente riferimento al fatto che il Movimento dell'Acqua su scala europea e dentro il Movimento dell'Acqua in particolare il Sindacato Europeo dei Servizi Pubblici ha attivato questo nuovo strumento che si chiama Iniziativa dei Cittadini Europei è la prima volta che veniva attivato questo strumento in base al quale se si raccolgono almeno un milione di firme in almeno sette paesi europei la Commissione Europea poi deve pronunciarsi Noi abbiamo raccolto più di 1.800.000 firme Abbiamo posto tre questioni importanti La prima è che l'acqua venisse considerata diritto umano universale e quindi che l'accesso all'acqua potabile fosse garantito a tutti i cittadini europei Il secondo tema era il fatto che la Commissione Europea dichiarasse che il servizio idrico non può essere privatizzato e il terzo che l'acqua venisse esclusa da tutti i negoziati e i trattati internazionali cosa di assoluta attualità se si pensa che in questo momento si sta negoziando tra Stati Uniti e Unione Europea un nuovo trattato del libro scambio che significa come dire anche su questo versante far sì che il mercato diventa regolatore assoluto La Commissione Europea si è pronunciata circa dieci giorni fa in un modo che noi giudichiamo sostanzialmente deludente nel senso che sì, ha affermato che sulla prima questione acqua diritto umano, questa è una questione condivisa dicendo però che l'Unione Europea sta già muovendosi in questa direzione e sulle altre due questioni, appunto la non privatizzazione e il fatto di escludere l'acqua dai trattati internazionali sostanzialmente non ci ha risposto Questo appunto pone ulteriormente, soprattutto in un momento in cui siamo alla vigilia di una scadenza elettorale europea, anche nella dimensione europea un problema di democrazia e ovviamente per quanto ci riguarda sia per quanto attiene le questioni di carattere nazionale sia per quanto riguarda l'Europa la nostra battaglia va avanti ed è una battaglia che appunto si salda sempre di più con le questioni e con le ragioni della democrazia Grazie a tutti Grazie a tutti